Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Manu e ragazzi oggi siamo qui ritornati sul diciannovesimo episodio di Mario Kart 8 Deluxe Oggi ragazzi andremo a giocare con Struzzi che è figata Ovviamente color base Come veicolo che possiamo mettere per lei andiamo con la carta E così va bene perfetto Allora andiamo a giocare con il trofeo frutta Mi raccomando ragazzi se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale Lasciate un bel like sotto questo video Allora grazie di cuore ovviamente a tutti coloro che lo faranno E ragazzi vediamo un po' come va quest'oggi Trofeo frutta Amsterdam in vera fata Direttamente da Mario Kart Tour Cerchiamo di non fare cagate Prima corsa Ah non parlo più Non parlo più ragazzi Allora Andiamo a sinistra C'è Link che figo E si vola Ok C'è Yoshi Ok molto bene Che figo ragazzi giocare alle nuove mappe Con un nuovo personaggio Che figo Che figo Comunque Se non sbaglio raga Struzzi Dovrebbe essere maschio Cioè non vorrei dire cavolate Ma se non sbaglio è così Molti di voi potrebbero anche dire Ma a me non me ne frega E vabbè E' una cosa che sapete in più Ok Si scende Non l'ho colpito E vabbè Forza raga E' certo Cioè ragazzi io mi impegno tantissimo Ma non so che devo fare Ho una sfida assurda Allora De la parte Andiamo 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 Let's go Forza E andiamo E ovviamente I tulipani raghi Forza Forza Non è vero La banana E tu mi vuoi dire Che io con una banana Dovrei sorpassare tutti Certo gioco Certo Va bene Va bene raga Va bene Va bene raga Cioè quando Quando non si può fare Cioè non si può fare Non si può fare Non si può fare ragazzi Non si può fare Vabbè raga Io ve lo prometto Che ovviamente poi Off camera Farò tutto Farò tutto Non vi preoccupate Farò tutto Trofeo frutta Non so più parlare Nel senso Che Prenderò tutte le tre stelle Parco Lungo fiume Direttamente da Mario Kart Super circuit Per il Game Boy Advance Allora ragazzi Allora ragazzi Per favore Io voglio andare a cenare Però Se poi vi vanno male Le piste Sapete Poi è una rottura Allora Una bella curva Signori Forza Ok 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 Va bene Va bene Ah se colpite le piante Che hanno Determinati oggetti Le troppano No raga Ma allora Doce di hand Come ha fatto Super hand Ma allora Ok Cerchiamo di prendere Va bene Anche uno E questo Che ci fa qua Ovviamente Una banana Il punto giusto Va a far culo Yoshi Oh Finalmente Stai arrivando E io Non sono primo Vaffanculo Vaffanculo Ma perché parlo Perché Perché parlo Eh vabbè Certo Perché lui Ce l'ha fatta Io no Vaffanculo Ciocco di merda Eh niente Non riuscire a prendere Certo Qualcos'altro Non riuscire a prendere Però Raga no Quando è così Non si può fare Quando è così Non si può Quando è così Non si può Cioè Quando va di merda Ma di merda Cioè no Non mi interessa Dico le tutte parole Non ne frega niente Ne dico Quando va di merda Non si può giocare Trofeo frutta Pista Snowboard Ding Kong Direttamente da Mario Kart Wii Ragazzi Questa è una Una signora mappa Però il problema è uno La sfiga Due Uno E penso Una partenza perfetta Non capita mai Allora Sariamo Sto arrivando a prenderti Yoshi Allora ragazzi Non utilizzate L'effetto dello snowboard Qui ai lati Andate così E andate sul sicuro Perfetto Allora Questa è neve Fredda E alta Che non potete Percorrere Se non avete un fungo E questo ve l'ho detto Allora Facciamo una bella curva Una bella curva E well E well Mamma mia Che giocata Allora Allora Boom E si vola Ok Ok Siamo andando a velocità Super Sonic Che il calamaco Non ci può fare niente Vabbè la curva Come si deve Ragazzi Nè troppo stretta Nè troppo larga Ok Certo Boom Vabbè la curva stretta Signori A noi due Brutto Dinosauro verde Andiamo Ce l'abbiamo dietro Ragazzi Ok Una bella curva Non male Vabbè Quello non manca mai Ok 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 Approfittiamocene Oh mio Dio Fatemelo dire Oh mio Dio Nessun problema Nessun problema Nessun problema No Ma fa culo Certo che c'è un problema Vabbè Forza 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 Basta 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 Non si può giocare così Guardate Che cosa è successo Nell'ultimo secondo Che cosa è successo Mi sono salvato Stavo cadendo Poteva accadere di tutto E di più Mi sono salvato Alla fine È arrivata la scossa Il fulmine Non lo che è La farfalla Vabbè Basta Non basta Basta Ragazzi Vi faccio vedere le mappe Fottetevene se sono scarso Trofeo frutta Isola Yoshi Direttamente da Yoshi Slide Che figata Comunque Yoshi Island Attenzione Non sono scarso a dirlo Non è che non lo so pronunciare Solo che sono di fretta E i miei video Sono sempre una merda Vabbè Comunque ragazzi C'è stata una partenza Perfetta Abbiamo anche una partenza Bellissima Ma anche come suono Perché solo chi ha giocato A sto gioco Può capire E non vi dico nient'altro Allora Vediamo un po' Una bella curva Signori Ok E non mi fa Giampare Allora ragazzi Guardate Se clicchiamo questo Boom Abbiamo attivato Il percorso Extra Che figata Che è bello Che è bello E allora Ovviamente le monete Sono a tema Yoshi Slide Yoshi Island Dai 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 Forza forza Vabbè Quello è normale E' bella Questa mappa Ma cosa è servito Usare quel fungo Se mi hanno superato In 300 Allora Un doppio Io odio La mia vita Allora Ok Ci sono secondo Da evitarmi Degli oggetti Ecco Per cercare Di superare Il primo Va bene No signori Ragazzi Io Non Non vi so che dire Cioè non mettete like A sto video Cioè Da sto punto Niente Ormai Quando la spiga E' una sfiga Ma di quelle potenti Non si può fare niente Vaffanculo Niente raga Ci ho provato Che figo Anche In sottofondo In sottofondo Abbiamo sentito Anche la conclusione Del livello Che bello raga Niente ragazzi Io volevo portarvi Un video Come si deve Solo Chi gioca a Mario Kart Può capire Certe cose Beh Prendetemi per scarso Fate quello che volete Non mettete like A questo video Vabbè Tanto non lo fate mai E Ragazzi L'unica partita Decente E' stata proprio qui Ad Amsterdam Vabbè raga Signori Io comincio a salutarvi Già da qui Perché non ne voglio Sapere niente Per favore Non guardiamo C'è la partita migliore È stata Amsterdam Che cagata Non è mai successo Nella mia vita Di Mario Kart Signori Io spero Che il video Vi sia piaciuto Non penso Che vi sia piaciuto Però vabbè Se vi è piaciuto Lasciate un like C'è c'è Peccato Peccato Ci dice peccato Addirittura Ragazzi Io vi saluto E noi ci becchiamo Al prossimo video Questa è uno di quartiere Come la storia è tutto Bene